Ciao, io sono Valerio e io Federica. Insieme ti diamo il benvenuto nel nostro corso di sicurezza informatica, il quale ti farà da guida di sopravvivenza per la navigazione sicura online. Siamo felici che tu abbia deciso di acquistare il corso e che hai mai tanta voglia di imparare le basi della cyber security. Conoscemoci un po'. Io sono un ingegnere informatico specializzato in sicurezza. La mia esperienza si è affidata partecipando alla Cyber Challenge, una organizzazione aperta a tutti basata sulla cyber security. Dopo aver partecipato a un corso di formazione sono arrivato quasi classificato partendo da zero. Ho già esperienza di insegnamento online, infatti ho creato un corso di programmazione base in Cibra Pass al quale sono scritti più di 600 studenti, la maggior parte molto soddisfatti e che hanno lasciato moltissime belle recensioni. Come Valerio anche io sono un ingegnere, la mia specialità è la sicurezza dei dati e delle comunicazioni. Dopo la laurea sono risultata vincitrice di un assegno di ricerca e dal momento faccio parte del team di cyber security nella mia università. Il mio percorso accademico non è stato privo di difficoltà. Sono stata fino a poco fa dall'altra parte della cattedra e posso capire quali sono le esigenze e le problematiche di uno studente. A questo proposito voglio fare tutto il possibile per offrirti un'esperienza di apprendimento efficace e produttiva, fornendoti la mia esperienza e la mia disponibilità per qualsiasi dubbio o domanda. Questo corso è pensato per chi usa spesso internet per motivi personali o di lavoro, ma non ha alcuna conoscenza tecnica. Ti porterà a navigare online in totale sicurezza, senza il timore di essere vittima di truffe o frodi. Per seguire il corso non serve alcun per requisito, basta soltanto avere una minima di domestichezza con il computer e tanta voglia di imparare. Ti forniremo inoltre un glossario con i termini chiave che potrai consultare ogni volta ce ne sarà bisogno. Il corso occupa una serie di argomenti utili ed interessanti. Primo fra tutti una panoramica sulla navigazione in rete, dove scoprirai la differenza tra un sito sicuro ed uno pericoloso. Imparerai chi cos'è la cartografia e come può proteggere la tua privacy. Inoltre proverai tu stesso ad utilizzarla per decifrare un messaggio nascosto. Ti illustreremo le principali minacce informatiche in cui possiamo incappare, come i virus. Nel corso delle lezioni scoprirai anche quali strumenti possono aiutarti a proteggerti da essi. Imparerai anche a creare password robuste per proteggere i tuoi account e vedrai come riconoscere file potenzialmente dannosi o infetti. Saprai riconoscere e quindi difenderti da truffe via mail e saprai utilizzare il wifi in modo sicuro. Siamo molto emozionati di iniziare questo percorso e speriamo che gli strumenti e le tecniche mostrate ti siano utili. In qualsiasi momento puoi lasciare una recensione per farci sapere se il corso è di tuo gradimento. Qualora dovresti avere difficoltà non esitare a contattarci mandandoci un messaggio o lasciando una domanda nell'opposita sessione domande e risposte. Noi cercheremo di rispondere tempestivamente e nel modo più sostivo possibile. La tua opinione è importante e ne daremo in considerazione. Detto questo ti auguriamo un buon viaggio in questo fantastico percorso alla scoperta della sicurezza informatica. Grazie a tutti.